Così che leggendolo sui libri. Abbiamo imparato molto, ad esempio, anche sui vestiti, perché avevamo dei vestiti molto particolari, che dovevano essere abbottonati e allacciati in modo particolare, insomma. Si impara anche ad apprezzare la pace in questo momento in cui la guerra, insomma, ci soffia nelle orecchie. Assolutamente, assolutamente. Il caporale Amideu, interpretato da Maximiliano H. Bruni. Interpretare un soldato nella Prima Guerra Mondiale, quindi scoprire e vivere in prima persona l'angoscia delle trincee, la disperazione di questi soldati che non mangiavano, avevano freddo, avevano caldo, erano sempre sporchi, senza neanche un futuro. E tra i protagonisti c'è anche chi, come Claudio Pasqualini, famoso procuratore sportivo, dopo aver scoperto i talenti caricistici del calibro di Del Piero Gattuso, si è dato al cinema. Un futuro da attore, quindi? Sì, perché io ho accettato di fare poco più che la comparsa, pur che fosse, parole testuali che ho indirizzato a Briguglio, l'inizio di una carriera. E a quanto pare ci sono già delle proposte che, peraltro, farò valutare dal mio agente.